un caso interessante questo computer arriva da un cliente acquisito nuovo aveva questo pc a casa gli ho riparato il pc attuale c'è questo qua che non usa da due anni un anno lo so abbastanza recente windows 10 come licenza modello f512f che non si accende l'aveva già portato cuneo il suo negozio di fiducia che gli ha detto che non era riparabile per cui ha staccato stato staccare il disco nvme che mette la tenuto in un box sono molto interessato a vedere cosa c'è dentro allora proviamo subito con l'alimentazione ho alzato leggermente questo così vedete qualcosina 19,2 volt bassissimi ampere andiamo a plaggare zero zero completo zero completo è interessante come tipo di problema perché in genere si risolve quindi chissà se farò felice questo cliente che dava il pc per non riparabile aveva anche comprato un alimentatore se non ero se non mi sbaglio quello che mi ha detto pensate fosse un problema di alimentatore non si era ne so più niente poi indubbiamente il primo mosfet almeno ipotizzo non è in conduzione per cui non abbiamo proprio nessun tipo di assorbimento non è in conduzione per un corto dopo il secondo magari o non so però sarà molto interessante vedere cosa c'è qua dentro un po' il connettore di alimentazione saldato giustamente come sugli asus il connettore c'è poco sembra aver visto un tagliettino ma probabilmente non c'entra niente ma è una rottura e spero di no però la batteria sarà scarica perché fermo da direi che ben saldato allora da questo lato non abbiamo niente di visibile interessante però possiamo senza fare qualche misura proveremo qua mille vedete se ce l'abbiamo lì magari sarà meglio magari sarà peggio mettiamo in modalità di continuità perfetto andiamo solo controllare veloce le induttanze massa devo ricordarmi ora in poi dovrò cercare di essere un po' più comunque qua niente tutto a posto 5 ohm che ci sta anche non è sui nuovi computer ci sta 4 e 7 ci sta 7 ci sta non vedo corti circuiti questa è una cosa molto positiva quindi andiamo dare un'occhiata subito il mondiale la scheda madre magari per solo vedere se c'è il 19 volte in giro per la scheda madre secondo qualche massa andiamo si condensatori maggiori cosa bisogna metterlo più avanti quando faccio i video non c'è non c'è non c'è non c'è proprio non c'è proprio tensioni 0 0 0 0 sul pin abbiamo 19 ok il primo mosfet sicuramente non in conduzione andiamo a montare la scheda madre hanno messo una sbarra di metallo per il robustire probabilmente abbostire questa zona dei cavi ottenere i cavi in posizione poi altri due computer che ho da guardare uno di sicuro ha una ventola che fa rumore quindi non ha niente di interessante quindi non darò a registrarlo e poi un fisso faccio una vita nera sulla scheda madre che strano la vita nera qua un pezzo di gomma probabilmente per evitare che si sganci lo schermo no dobbiamo settare l'orologio cazzo 3 e 29 e adesso sono le 3 cioè si sono dobbiamo settare questa così uno vede anche che ora è lo ho raggiunto l'ombra 15 e 24 ok qua abbiamo i due mosfet più il current sensing andiamo a vedere sui mosfet eccoli qua alimentazione potrei alzarlo ancora un pelo magari però ma qua abbiamo già volt quindi andiamo a controllare prima di tutto qua poi abbiamo 19 vedete 19 non fate caso ai puntali che fanno schifo vediamo dall'altro lato dall'altro lato non abbiamo niente andiamo a vedere sul gate abbiamo un gate basso quindi questo mosfet naturalmente non è in conduzione allora adesso la prima cosa a vedere è se ci sono delle basse impedenze sulla main power line quindi stanchiamo l'alimentazione passiamo in modalità di resistenza anche di continuità mettiamo continuità ok andiamo a vedere dopo il current sensing e abbiamo 3 ohm il che vuol dire che in protezione per questo motivo 3 ohm qui giustamente non abbiamo nessun problema quindi bisogna andare poi c'è una main power line mostuosa guardate quanto è grande mai vista è larga quasi due centimetri sono impazziti in questo modello ho deciso di mettere un po' di massa e un po' di power line dappertutto allora fortunatamente non abbiamo dei delle basse impedenze eccessive dalle parti del processore e della scheda video no ma della scheda video non l'ho potuto vedere perché della scheda video purtroppo i mosfet sono dissipati vedete sono qua sotto 1 2 3 vedete quindi qua c'è il rischio di schede video in corto è possibile e andiamo a togliere innanzitutto il dissipatore perché dobbiamo vedere subito poi con la termocamera che cosa succede dobbiamo avere un po' un'idea precisa vabbè arrivo e poi andremo a fare injection proprio basso basso posso vedere se ci saltano gli occhi qualcosa di eclatante questa termica della originale guardate che power line vedete quanto è larga poi arriva qua quasi diventa gigantesca gigantesca qua arriva fino a qui probabilmente anzi questo è sicuro questi due condensatori sono diretti sulla power line provvedere provvedere esatto quindi questi qui ho la massa 2,2 2,9 quindi a destra c'è la power line qua si vede anche un giunto vedete quindi destra power line sinistra condensatore massa quindi andiamo a ingettare direttamente qua così vediamo subito che cosa si scalda termocamera massa cicacciacca puntare injection mettiamo solo due volte due volte due volte adesso non dovrebbe scaldarsi niente perché siamo solo con due volte pochissimi milliampere non dovremmo vedere niente vedo qualcosa di caldo un'impressione proviamo ad alzare un po' zips 1 ampere voi in realtà non fidatevi di questo alimentatore stabilizzato perché non è a un no perché non è così si continua a vedere questa parte qua del circuito scaldarsi eh è sicuramente più calda e si vede qualcosa qua potrebbero essere questi condensatori no magari quanti quanti mesi sono forse un anno che non faccio un condensatore ma proprio non mi arrivano non so si se non è il mosfet è un condensatore che culo eh allora il caldo arriva da qua e con molta probabilità è il condensatore di sotto eccolo qui potrebbe essere lui è lui o non è lui è lui o non è lui andiamo a vedere alla veloce bagnozzato mettiamo una buona messa fuori ah si si vede è rotto è rotto è rotto è qui guardate che faccio gli impulsi bam 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 il famoso computer irreparabile andiamo a togliere sicuramente eh la main power line quindi 19 volt quindi questi condensatori sono da 25 volt togliamo col bismuto questo è la stazione saldante di Davide qui no scudate sta roba eh vabbè andata così e niente, avete visto niente? che tristezza totale, è bello che ho messo anche bene a fuoco così potete vedere bene, così avete visto niente, allora andiamo a ritestare e voilà, è corto, non c'è più, non c'è più ora, quindi solleviamo questo condensatore da un lato così lo andiamo a misurare con un po' più di accuratezza, se si scalda, ecco qua, nice, nice ok, ho spostato il condensatore in modo che non ci scappi via, perché se ci scappa via siamo un f***o, si finisce nella quinta dimensione, perché è l'unico che abbiamo, quindi andiamo a vedere qua, stac, andiamo a vedere da quanto è realmente il condensatore slegato da, e questo è quello che lui usa, che bisognerebbe esattiva, cosa sta facendo? e poi ne andiamo a mettere uno 11,7 micro farad, proviamo con un altro test 12,10 micro farad 12,10 micro farad 12,10 micro farad 15,10 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 micro farad 15,24 per oledere 15,24, challenging un intervario non è possibile 11,33 non ci credo 11,33 allora adesso bisogna provare a farlo esplodere per capire naturalmente se è adatto agli 19 volt bisogna dargli un puntale da injection 19 volt perché se è da 6,4 esploderà e ci toglieremo subito il dubbio andiamo a fissarlo un attimo se scoppia vuol dire che abbiamo la massa la massa abbiazzata puntale ne basterebbe teoricamente è già 13 volt però nel dubbio tanto ve ne accorgete subito se ne fa il botto vediamo se madonna si voilà 19 volt mettiamo l'alcol isopropilico non si scalda neanche come vedete quindi questo qua è buono regge 19 volte senza problemi andiamo a staccare e attacchiamo dall'altra parte via qua riattacchiamo questo lo buttiamo nell'altra posizione scusate ok andiamo a mettere quello che bello oh è spento ok andiamo a piazzare cioè sono riuscito a spostare l'altro questo è davvero spento da la temperatura rimasta ok 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 andata 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 senza usare l'aria calda così la mutanda non stressa andiamo a vedere quanto mi segna se 2,90 che non mi abbia scombinato niente 307 che sono i 10 11 micro farad che abbiamo aggiunto che ci sta andiamo a pulire e rimontiamo non so che vi piacerebbe vederli dritti questi condensatori ma purtroppo non avrete questo piacere non finisce più questa giornata ora mettiamo lo schermo protettivo sul cellulare pasta termica una cremina qua ce n'era un bel po abbondavano ecco la diamo corrente connettore massa pochissimi liam per spero che si vede vogliamo fare una partita e ora avremo l'assorbimento dello step down salvo a esplosioni termonucleari globali giochiamo alla guerra termonucleare globale bene vado vado prego ti prego ti prego ti prego ti prego però sì l'ho visto l'ho visto per un attimo ok volt ora teoricamente dovremmo avere il 3,3 vedete mettiamo proprio qua ora misuriamo misuriamo qua e voilà abbiamo il 18,8 dopo il secondo mosfet e non c'è più il corto che è successo si è accesa si è accesa dopo un po avete visto vedete dopo un po' ha fatto la procedura di avvio automatico aspettate schiaccio voilà ed è partita infatti è tiepida 6600 mAh andiamo a montare eh veramente sarà tra al minimo sei mesi anche di più forse ma di quest'anno siccome io non ho non avevo ancora cambiato non ho ancora beccato un contestatore del corto non mi sembra a me non mi viene in mente direi che siamo abbastanza in dirittura di arrivo solo fissare qua che lo potremmo già accendere sto dimenticato qualcosa c'è solo batteria da attaccare e direi che possiamo accendere facciamo un po' gli ampere spegniamo il soldatore tasto di accensione no davvero vediamo se si auto accende dopo un po' perché manca la batteria attaccata la tastiera attaccata perché non va che cazzo succede ah il cavo non l'ha attaccato bene scusate oh mio dio perché non ho il connettore asus ancora di questo modello 700 dai faccio esogna sì i connettori hanno attaccato bene è avuto un infarto un infarto un infarto attacchiamo la batteria poi c'è l'euro cliente il disco nvm e questo è libera questa è libera non è tanto accentrata libero ok ora adesso dovrebbe caricarsi anche la batteria anzi dovrebbe anche accendersi magari o la batteria sarà completamente scarica vediamo ma mi è venuto un infarto e la batteria si sta caricando si è acceso come vedete 680 680 750 si accende un ampere 05 andiamo a spegnere vediamo quanto è la carica batteria 0 la batteria non si sta caricando per niente il che potrebbe essere che è completamente scarica e può darsi che non si riesca a riprendere per cui andiamo a vedere alla veloce è un casino è un casino non è stata niente vediamo se il tentativo di carica lo sta facendo rosso e mi segna 0,2 0,2 0,2 non va per niente bene led bianco e non rosso dubito che ci sia il mosfet adesso vedo col cliente sto pensando se potrebbe essere che il secondo mosfet è molto vero è molto vero è molto vero è molto vero ok sono è molto vero è è è Grazie a tutti.